La provincia di Arezzo dice addio al sistema di protezione richiedente asilo. Dopo la scelta del comune di Arezzo, anche la provincia ha infatti deciso di interrompere l'adesione allo Sprar. Ad annunciarlo è stata la stessa presidente, Silvia Chiassai Martini, che sottolinea come la decisione è maturata dal fatto che l'attività dello Sprar non rientra tra le funzioni obbligatorie rimaste alle province. Non disponendo neppure di un servizio attivo per le politiche sociali, dobbiamo procedere all'individuazione di soggetti terzi che possano farsi carico dei progetti per l'organizzazione della gestione dell'accoglienza. In questo contesto difficile per le risorse e l'ottimizzazione dei servizi in capo alla provincia dobbiamo necessariamente effettuare delle scelte in base alle priorità e alle emergenze che il territorio delle nostre comunità stanno affrontando. Il sistema Sprar richiede strutture personali che al momento l'ente non può mettere a disposizione in quanto abbiamo altre questioni come le strade e le scuole che meritano risposte urgenti. Gestire e rendicontare oltre 2 milioni e 200 mila euro per il sistema Sprar richiede uno sforzo organizzativo che al momento questa amministrazione non può più sostenere. Dunque dal 2020 la provincia di Arezzo non sarà più l'ente capofila del progetto triennale 2017-2019 anche se, conclude Silvia Chiassai, l'ente terminerà tutti gli impegni presi con la rendicontazione delle risorse finanziarie al Ministero degli Interni.